In questa puntata Arpat si idea Il consiglio regionale ha il bilancio 2020 Premiato il miglior spot sulla Toscana Un tartufo bianco fino a Natale E' stato approvato durante la seduta del consiglio regionale della Toscana Il bilancio di esercizio 2020 di Arpat L'agenzia regionale di protezione ambientale Il sì a maggioranza è stato ottenuto con 21 voti favorevoli 12 contrari e 2 astenuti Approvata la proposta di risoluzione di Irene Galletti Del Movimento 5 Stelle per incrementare risorse, strumenti e personale Mentre è stato respinto l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia Quest'ultimo come dichiarato in una nota da Fratelli d'Italia Chiedeva distanziare maggiori risorse da destinare all'organico, tecnico di Arpat Per rafforzare i controlli sul territorio dal punto di vista ambientale L'importanza di Arpat all'interno del sistema regione toscana è sicuramente essenziale E siamo contenti che finalmente dopo averlo più volte presentato Il nostro atto che va nella direzione di aumentare le risorse per le assunzioni del personale E la fornitura di materiale, attrezzature e mezzi per il personale stesso Sia stata approvata dalla maggioranza Che ha riconosciuto che in questi anni C'è stata magari una minore attenzione A quelle che erano le risorse di quest'ente Che diventa fondamentale quando in questo momento, a breve Arriveranno molti fondi anche per il PNRR Per numerose opere E dovranno essere tutte oggetto di controlli e valutazioni Purtroppo dobbiamo dire che ci siamo dovuti astenere Perché nonostante il grandissimo lavoro Che è stato profuso dal personale Arpat La mancanza di risorse che si avevano Non le ha messe in condizione di poter portare a termine Persino gran parte della programmazione che era stata prevista Ad esempio per i controlli sull'amianto E altri controlli che addirittura sono decresciuti delle volte fino al 33% E quindi questo fa capire che investire in Arpat è fondamentale E che la regione deve finalmente attivarsi sotto questo profilo Il bilancio di Arpat che abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale È stata l'occasione per parlare ancora di questo importante ente strumentale della regione Un ente che nel territorio fa della prevenzione, del controllo, del rispetto dell'ambiente E delle norme il suo essere per noi un punto di riferimento Abbiamo anche in Commissione ascoltato il Presidente e il Direttore Tecnico Il quale ci hanno comunque evidenziato il gran lavoro che in questo momento sta facendo Arpat Alla luce anche delle tante problematiche che in regione toscana ci sono Ma soprattutto un lavoro vicino alle imprese e ai cittadini Che in questo modo possono davvero mettere in atto tutto quello che serve per rispettare l'ambiente C'è un problema di personale Ormai da tanti anni la regione toscana sta affrontando questo Nel rispetto però delle norme nazionali Del vincolo che comunque ci è imposto dalle norme nazionali Lavoreremo ancora insieme ad Arpat per far sì che l'ambiente venga protetto Soprattutto preventivamente anche perché se non è rispettato poi l'ambiente ci presenta il conto In Toscana purtroppo troppe volte questo è successo Abbiamo dato sostegno all'approvazione del bilancio di Arpat Che è una delle agenzie regionali che ha una maggiore valenza Maggiore importanza rispetto ai temi ambientali Rispetto alle indagini preventive, rispetto ai controlli Rispetto anche a tante questioni che ci vengono sollevate da cittadini e dalle istituzioni Il tema dei controlli e delle politiche ambientali è un tema di grande sensibilità E come tale il nostro sostegno a un'agenzia che nella propria indipendenza Determina un soggetto di massima garanzia per tutti i cittadini toscani E questo è un bene che la regione toscana deve tutelare, sostenere e finanziare Arpat è un ente fondamentale per la Toscana Perché deve effettuare i controlli e tutte le verifiche necessarie per la salute dei cittadini toscani Oggi riscontriamo dal bilancio di Arpat un utile di oltre 6 milioni di euro Questo già era successo con un utile dell'anno scorso di oltre 2 milioni Siamo arrivati a 6 milioni, questo non è accettabile perché servono investimenti forti Affinché questa agenzia compia il proprio lavoro Noi pensiamo invece che questo tesoretto venga messo da parte Sia fermo sul piano degli investimenti nell'assessorato Perché sarà utile questo tesoretto per sanare quello che è il disavanzo sulla sanità pubblica Questo non lo possiamo accettare, non possiamo accettare che Arpat e tanti altri investimenti Che devono essere fatti nei diversi assessorati siano bloccati Quindi abbiamo espresso un voto contrario anche perché Arpat in questo anno ha avuto un calo notevole dei controlli Sicuramente ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista del personale Che Arpat purtroppo vede al suo interno sempre più invecchiare e non rigenerarsi E rinnovarsi soprattutto con delle professionalità specifiche nel settore In diversi settori come quello delle verifiche e dei controlli che vengono fatti in ambito marino costiero Crediamo però che non è accettabile che un'agenzia come Arpat oggi abbia un utile di oltre 6 milioni E non vengano svolte le verifiche e i controlli Che un'agenzia così importante per il nostro territorio, non dimentichiamo la Toscana dell'inchiesta Cheu Non può permettersi Si è fatto il bilancio di Arpat in qualità di vicepresidente della Commissione Ambiente Sono intervenuto, se volete vi racconto due cose Il bilancio di Arpat denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse Paradossale perché l'azienda ha chiuso un bilancio di oltre 6 milioni di utile Di cui l'80% però viene riassorbito dalla regione In virtù della vittoria che l'agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni Dal punto di vista delle applicazioni del Limo Detto questo noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici E quindi delle risorse a disposizione dell'agenzia per svolgere appieno il proprio compito Perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto Che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato C'è poi la vicenda del Cheu Abbiamo presentato un ordine del giorno specifico In cui si chiedeva alla regione di stanziare maggiori risorse Per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre possibili opere Inquinate dalla presenza del Cheu e conseguenti bonifiche Il PD ha ritenuto di non votarlo È un errore per noi gravissimo Non tiene conto della situazione eccezionale dal punto di vista ambientale Che la regione sta attraversando Non solo per le vicende del Cheu E quindi ci aspettiamo che la regione cambi idea E arrivi nuovamente a impostare una politica ambientale diversa Matteo Manganelli ha vinto il concorso Toscana in spot 2021 Con un video dal titolo Toscana 2050 Nostro futuro Secondo posto per il videomaker Giovanni Polisano Terzo per Andrea Palumbo E menzione d'onore per il 14enne Guido Fontanella I vincitori del concorso indetto dal Comitato regionale per le comunicazioni Sono stati premiati nella sede del Consiglio regionale della Toscana Ringrazio Corecom perché davvero è andato nella direzione Che come Consiglio regionale volevamo Quello di provare a iniziare a raccontare la Toscana del 2050 È il primo passo Davvero dei video molto belli Che segnano i temi da trattare La sostenibilità, l'intelligenza artificiale La Toscana del domani ha anche tante domande Come la domanda della bimba Che è l'attrice principale del video vincitore Che ci mette tanti sé, tante domande E da quelle domande partiremo nel nostro lavoro nel 2022 Perché il nostro obiettivo è quello di lasciare una Toscana Nel 2050 ancora più accogliente, più aperta Una Toscana che guardi con speranza al futuro Alle nuove tecnologie E alla necessità di saper tenere insieme la nostra storia I nostri diritti e la nostra identità Con la capacità di anticipare il progresso Anche quest'anno abbiamo voluto invitare i giovani filmmaker della Toscana A raccontarci una loro idea, una visione della nostra regione L'idea quest'anno era molto ambiziosa Vedere la Toscana nel 2050 Sono stati numerosi i ragazzi e le ragazze Che si sono presentati con dei progetti Tutti assolutamente molto belli Sotto l'albero di Natale Spunta il tartufo a Montopoli Prende via l'iniziativa Bianco Fino a Natale La presentazione degli eventi negli uffici del Parco di San Rossore Un calendario importante che ci manda un primo grande messaggio E poi il messaggio del Natale Un messaggio di speranza Un messaggio di ripartenza Un messaggio positivo Che è quello di poterci ritrovare finalmente dopo tanto tempo Tutto questo è possibile grazie alla vaccinazione Grazie allo sforzo che i cittadini e le cittadine della Toscana Hanno fatto in questo anno e mezzo Terremo insieme dall'inaugurazione l'8 di dicembre a San Romano Di un presepe che vede migliaia Decine di migliaia di visitatori l'anno E poi anche il racconto delle prelibatezze del nostro territorio Dai vini ai tartufi Insomma sarà un Natale pieno di eventi In cui mettere in risalto le eccellenze del nostro territorio Le qualità enogastronomiche E la possibilità soprattutto per i bimbi Di ritornare a vivere il Natale Le emozioni che solo il Natale sa donare a ciascuno di noi Un momento bello, un momento di ripartenza Che abbiamo voluto oggi raccontare tutti insieme Sarà un Natale diciamo più brillante e migliore degli anni passati Specialmente dello scorso anno Perché siamo usciti veramente da una situazione incresciosa Che ci ha visti diciamo di non poter socializzare Di non stare insieme Che ha penalizzato le attività commerciali E quindi cerchiamo di mettere in campo iniziative Che possono andare nel senso dello sviluppo del nostro territorio Dal punto di vista commerciale E dal punto di vista dell'attrazione di persone Una è senza dubbio valorizzare un prodotto Che caratterizza il nostro territorio E che è il tartufo Che è diciamo un ambasciatore del nostro territorio In tutto il mondo Perché insomma tutti conoscono le qualità del tartufo E dove esso cresce anche dal punto di vista ambientale È un sito, un ambiente veramente naturale Veramente diciamo libero da inquinamento Altrimenti non nascerebbe in quel posto Quindi credo insomma che questo sia importante Farci conoscere attraverso un prodotto Così diciamo di punta E così diciamo valorizzato E apprezzato in tutto il mondo Il calendario di questa rassegna Tartufo a Montopoli Ha un sottotitolo molto particolare Perché è bianco fino a Natale Partirà con una scena in un luogo molto particolare Per noi a Montopoli Che è il Conservatorio di Santa Marta Luogo veramente centrale dal punto di vista Della valorizzazione della cultura E del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio Ma non solo Avremo un appuntamento molto molto interessante Di una caccia al tartufo Che verrà organizzata niente poco di meno Che dentro la tenuta Varramista Che è un altro luogo molto speciale del nostro territorio Tutta la rassegna in realtà Ha il suo valore centrale Che sono stati coinvolti i produttori locali Delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio Dalla pasta alla carne Ha tutti gli altri prodotti che vengono sul nostro territorio Prodotti e lavorati E anche i nostri ristoranti I luoghi della somministrazione Sono coinvolti Perché ogni singolo appuntamento Che viene organizzato Al di là degli appuntamenti istituzionali Ci saranno singoli appuntamenti Nei ristoranti del nostro territorio Dove si potranno gustare quei prodotti Che davvero rappresentano L'eccellenza del nostro comune E anche il tartufo bianco L'ultimo appuntamento sarà molto particolare Prima delle feste natalizie Un appuntamento di solidarietà L'enogastronomia che incontra la solidarietà E il ricavato di quella serata Verrà destinato Alla costruzione del nuovo ospedale Della fondazione Stella Maris Una cosa a cui noi tenevamo particolarmente Perché la fondazione Stella Maris La conosciamo molto bene Con il nostro amico il presidente Giuliano Maffei Portano un lavoro avanti Molto molto importante Con tutte le forme di disabilità Dei giovani e dei minori E soprattutto rappresenta un simbolo Che nel Natale trova la sua centralità La stella Quindi invito veramente tutti A venirci a trovare a Montopoli A poter godere di tutte queste bellezze L'ultimo evento sarà A chiusura simbolica Il 19 di dicembre Che è una domenica Naturalmente abbiamo dato Un'indicazione di possibile variazione Per come potrà andare La pandemia che purtroppo stiamo vivendo Ma noi ci crediamo E ce la metteremo tutta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.